Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePah17 e oggi siamo tornati su Splatoon Per delle nuove mischie mollusche con voi Come promesso ragazzi oggi è mercoledì 24 maggio Sono le ore 14 e sono online pronto a giocare con voi Ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi Va bene ragazzi eccoci qua nella prima partita di oggi Mappa HachuGames modalità Bazookarp Siamo 3 contro 3 Vediamo poi nelle prossime partite se si unirà qualcun altro Se no ragazzi mi trasferirò nella lobby pubblica Allora andiamo subito a prendere il Bazookarp Io sono insieme a Johnny e Italia Bros Ok perfetto Mamma mia ragazzi Gugu mi ha già silurato con lo splatter con mirino Attenzione che mi sa che l'han preso Eh l'han preso i verdi L'han preso i verdi il Bazookarp Siamo già in svantaggio Attenzione che piovono bombe a destra e a manca Ok bravo Italia Bros Il Bazookarp però è di là È stato abbattuto È stato abbattuto Razzo lì in mezzo Si sono salvati Preso Ho preso Aurora Attenzione che c'è Attenzione erano in due Erano in due C'era Marco che copriva Gugu Ok Bazookarp nostro Partita già molto intensa Dopo i primi Secondi di gioco Guardalo Eh poi usa la mitragliatrice Per quello che non riesco a splattarlo Stava coprendo Un altro suo compagno di squadra Sono sempre da solo Ad affrontarlo Sono sempre da solo Purtroppo Niente Bazookarp di nuovo verde Razzo Ok muoio Ma almeno Sparo il razzo Caspita Sono già davanti alla nostra base Eh no Adesso User Eh no Di qua non si può neanche passare Ok bravo Bravo Johnny Siamo in difficoltà Pigliate Aurora Pigliate Aurora Niente ragazzi Partita terminata Ok Prima partita andata Vincono loro Vediamo Le statistiche di gioco Non siamo mai riusciti A portare il Bazookarp Dalla loro parte Non ce l'abbiamo mai fatta In questo match Ok Chiudo con Purtroppo 5 morti E una kill Va bene ragazzi Secondo match Nella modalità Bazookarp Mappa periferia urbana Ok Ok squadre caricate Leggermente mischiate E si parte Velocissimi Dall'altra parte C'è sempre un cecchino Quindi stiamo attenti Ok mi dirigo Velocemente Al centro Della mappa Il cecchino È già lì Il cecchino È già lì Ok Bazookarp Nostro Attenzione a Johnny E attenzione Anche a Gugu Che ha preso il rullo Boh In 4-4-8 Ha fatto fuori Tutta la nostra squadra Fantastico Adesso siamo in difficoltà Ok Bazookarp È recuperato Da parte loro Ah Vogliono fare il giro esterno Eccolo Lo sapevo Però purtroppo Se non coloravo Non riuscivo a passare Cioè è riuscito a sopravvivere Si è ficcato Dentro al tornado Ed è riuscito a sopravvivere Intanto non lo piglieremo mai Razzo Ok bravi Che l'avete stoppato Anche perché non è possibile Che lui da solo Riesca a prendersi La vittoria Ok Ho preso anche Johnny Dopo aver preso Marco Dai ragazzi Ripartiamo A tutta velocità Adesso purtroppo Sanno dove siamo Eh Perché ci hanno Individuati Che violenza Però Niente Ci hanno sterminati Ci stavano aspettando Praticamente Niente Niente Si riparte Ma tanto Sono già lì pronti Fanno di nuovo Il giro esterno Ok Ho preso Johnny Che mi stava inseguendo Ho sparato Il razzo Lì È dura È dura Adesso dobbiamo stare attenti Perché potrebbero essere Dietro qualunque angolo Eh infatti Eh infatti Ci hanno attaccati Dall'alto Ho preso Gugu Ok Per fortuna Mi sono spostato Perché sennò Sarei esploso Dai Caspita Avevo il razzo Ok Bravi che avete Recuperato il bazookarp C'è aurora E c'è anche Italia bros Se Mi fa fare Il super salto Magari Preso Marco Mi è andata Di lusso Vai vai Aurora Vai 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 Mamma mia Signori Che vittoria Mamma mia Signori Che vittoria Siamo riusciti A ribaltare Il match Bella Bella Questa partita Sembrava Che dovessimo Perdere E invece Siamo riusciti Completamente A ribaltare Il match Bella vittoria Gran Bella Vittoria Chiudo con 5 kill E 4 morti Va bene ragazzi Mappa Raffineria Modalità Bazookarp Facciamo che fare Ancora un match Facciamo che giocare Anzi Ancora un match In questa modalità Visto che siamo 1 a 1 Poi se vedo Che non si unisce Nessun altro Mi trasferirò Nella lobby pubblica Scusate l'orario Perché qualcuno mi ha detto Che effettivamente Molti di voi Potrebbero essere a scuola A quest'ora Però purtroppo Era l'unico Giorno Scusate L'unico Orario disponibile Per me Adesso purtroppo Aurora mi ha subito Abbattuto Peccato Facciamo un super salto I miei compagni Ok Sono riusciti ad abbattere Aurora Ok Anche noi Abbiamo un cecchino Mi stanno sparando Alle spalle Johnny aveva fatto Tutto il giro E il nostro cecchino Non l'aveva visto Cioè ma chi è che Ho già buttato Dell'azzurro qua Ok Bazookarp Di nuovo In mano nemica Eh vabbè È diventato un kraken Ciao Così non potevo Abbatterlo Sì vabbè Sono già qua Praticamente Sono già qua Direi che la partita Terminerà in pochi secondi Bella kill Dai Marco Bravo Ok Prendetelo voi Eh ma perché Sanno dove Caspita Siamo Ho preso Gugu Che ha l'abitudine Di usare Dopo un Un certo periodo Di tempo Anzi dopo Morirò Ma ho lanciato il razzo Non importa Dicevo Dopo che Riesce ad avvicinarti Inizia a usare Il cecchino Come una Mitragliatrice Preso Non mi ero neanche accorto Che il bazookarper Era qua Eh no Però sono tutti lì Ne ho preso Qualcuno Sì Perché forse Erano distratti E quindi Marco Ha potuto Anzi taglia brossa Ha potuto Dargli il colpo di grazia Però il bazookarper È sempre Troppo vicino Via Riportiamolo Via Eh ma sono sempre lì È un assedio Non si riesce a uscire Sono sempre lì Sono sempre lì Tornano sempre alla carica Uno è preso E poi c'è Aurora con il bazookarp È veramente una cosa Impressionante Un assedio Eh no È finita Ho preso ancora Gugu Però Si è messo Sopra il totem Per proteggere Il bazookarp Vabbè ragazzi Partita terminata Match sofferto Purtroppo Non siamo mai Riusciti a portarlo Dalla loro parte Il bazookarp Conveniva quasi Buttarlo giù Dalla Dalla piattaforma Magari respawnava Al centro Va bene ragazzi Come Vi avevo già annunciato Nell'info time Essendo Meno di 8 Mi sono trasferito Nella lobby pubblica Modalità Mischi e mollusche Mappa Torri cittadine Perfetto Allora qui dobbiamo Semplicemente colorare Ho visto che qualcuno È già riuscito a entrare Tanto mi potete raggiungere Tutti quanti Attenzione Mi sa che c'è Gugu Dall'altra parte Con Guarda lì È già lì che mi assedia C'è Gugu Dall'altra parte Con Il cecchino Il tinter A carica Probabilmente C'è un blu Qua in zona Io mi sposto Così evito Anche il suo Attacco Niente Non si riesce A salire Di lì Allora dobbiamo Riprovare Da questa parte Di qua Ok Di lì Non c'è già più Nessuno Diamo una colorata Qua in cima Il problema È che sono Un bersaglio Facile Mentre Salgo su Ok Nessuno Mi ha dato Fastidio Provo a sfondare Da questa parte Di qua Dai ragazzi Che vi aspetto Ho già finito L'inchiostro Razzo blu E razzo Arancione Stanno arrivando Eh no Ciao Era Link Craft Allora Io mi ributto Giù Nel frattempo Preso C'era il giapponese Che dava Una colorata Qua sotto Ok Bella l'idea Della fontanella Perfetto Eh sapevo che Eh sapevo che Avrebbe fatto il giro Han preso la giapponese Però purtroppo Era ormai Troppo tardi Allora Per il momento Stiamo abbastanza Dominando Eh Guardate C'è ancora Questa zona neutra Qua Facciamo che Dare una bella Colorata Speriamo che Qualcuno Della mia squadra Vada a dar fastidio A Ai blu Dall'altra parte Agli azzurri Dall'altra parte Insomma Un po' di parkour Gonfiabile Scendiamo Non ci credo Ho beccato L'unico punto Dove non c'era Una piattaforma Sì ma i miei Hanno mollato Come non so che cosa Hanno proprio mollato Adesso vi faccio vedere La mappa Hanno mollato Non hanno più Combinato niente Davanti Speriamo di No Riusciamo a portarla A casa Ma ragazzi Per lo 0,5% Quindi per un pelo Vinciamo di pochissimo C'è andata Veramente Di lusso Va bene ragazzi Mappa Raffineria Altra Mischia Mollusca Perfetto Squadre caricate E si parte subito Vedo che qualcun altro È riuscito a entrare Brioche È passata di qua Allora La seguo E coloro dove non è passata Lei o lui Allora Su di qua Dobbiamo prendere Subito il controllo Di questa zona qua No Dai Caspita L'avevo pure colpito Ok Bravi Bravi Brioche Abscula Qui è sempre Gugu Che fa tutti Sti Danni Qui è passato Un pennello Sicuro Perché riconosco Il tratto Guarda dove Si è piazzato Gugu Ah ma adesso Provo a stanarlo Con razzo Mi sa che non ce la faccio Perché tanto Sicuramente lo vedrà Si vabbè Come ha fatto a capire Che sono lì Non si sa Niente È diventato di nuovo Un kraken L'unica cosa è che Non ho capito Come ha fatto a capire Che ero lì Perché Ok Deve aver visto Che stavo sparando colore Però Ero totalmente Nascosto E in più Mi pare che nessuno Avesse utilizzato La cimice O la spia Qualcosa Clady è stato subito Abbattuto Ottimo lavoro Il problema è che Siamo in difficoltà Via Gabbiano Ok Stanno già tornando Stanno già tornando Dobbiamo colorare Tutta questa zona Attenzione alle spalle Se riusciamo a prendere Facciamo perché c'è troppo arancione Sulla mappa C'è veramente troppo arancione Preso Ho bloccato subito Google Invece Invece siamo riusciti a ribaltare E invece siamo riusciti a ribaltare totalmente il match Chiudo con 2 kg e 4 morti Bella partita Va bene ragazzi Altro match Sempre nella mappa Sempre nella mappa Sempre nella mappa raffineria Andiamo subito Andiamo subito a prenderci Questa zona Guarda Gugu come si è piazzato Là in cima Facciamo che stanarlo va O almeno A tirargli via Il radar Che aveva piazzato Ok Può arrivare fino lì Può arrivare fino lì Purtroppo i viola Hanno sfondato Stanno colorando lì Mi conviene tornare alla base Che lentezza però Ok Ho fatto che scappare Perché tanto ero da solo E ne stavano arrivando tipo Due o tre Ok Ho splattato la giapponese Però caspita Ero Proprio In mezzo Dovevo affrontarla Lateralmente In quel caso Sarei riuscito a splattarla Senza morire No 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 Ero indeciso Salto dritto Salto a destra Salto a sinistra Sono morto in modo Abbastanza banale Attenzione che Sono lì No più che altro Perché ho controllato adesso Le mie statistiche E non mi possono vedere Clady l'ho preso Non mi possono vedere Né quando Mi muovo in mezzo all'inchiostro Né Quando faccio il super salto Perché ho Praticamente Ok Questo vai con me Ho praticamente L'abilità Del calamaro ninja Eh non c'è nessuno Però di là Guarda come Colorano Dall'alto Eh no però È diventato Un calamaro Di nuovo Ecco perché fa tante kill Usa il kraken È perché usa il kraken Ecco perché riesce a fare Tutte ste kill Ok bravi Sono riuscito a distrarlo Ok mancano 30 secondi Stavolta la vedo grigia A meno che non riusciamo a recuperare Come prima Allo scadere Però La vedo Veramente grigia Proviamoci Proviamoci ragazzi Proviamoci Perché alla fin fine Prima non abbiamo Perso Di Cioè non abbiamo vinto Di poco Ok partita terminata Prima comunque Non avevamo vinto Di poco Secondo me Stavolta però C'è più viola Che verde Infatti Vincono di pochissimo 45 a 41 Magari 20 secondi in più Avremmo potuto Ribaltare di nuovo Il match Vabbè Non importa Pazienza Chiudo con 4 kill E 5 morti